Siamo al parco zoo di Falconara, la struttura che vedete alle mie spalle è quella che ospita dal 2019 una coppia di Saki dalla faccia bianca. Luigino, lei Linette, è nato un piccolo Saki, ce lo presenta Gioia, abbiamo un neonato praticamente, è maschio, femmina, com'è la situazione, che cosa avete capito al momento? Allora sì, alle mie spalle mamma Linette accudisce con amore da diverse settimane ormai un piccolo a cui abbiamo dato il nome di Saki. Il sesso non è ancora definito al 100%, ci sono dei piccoli segnali che iniziano già a spingerci in una direzione piuttosto che un'altra, però aspettiamo che il piccolo Saki cresca per ufficializzare appunto se sarà maschio o femmina. Ci racconti un po' qualcosa di questa specie? Questa specie è molto caratteristica perché ha il dimorfismo sessuale, che sembra una parola molto difficile, ma semplicemente significa che il maschio e la femmina sono molto diversi fra di loro e questa differenza si può vedere anche ad occhio nudo. I maschi infatti hanno una caratteristica pelura bianca su tutto il volto, peluria che invece è assente nelle femmine, che sono monocolore, quindi nero-grigiastre. Voi avete riaperto ieri il 3 maggio dopo un lungo periodo di chiusura, intervallato da una breve parentesi a febbraio quando è stato possibile riaprire. In questo periodo però ci sono state altre novità che avete preparato per i visitatori che arriveranno. Sì esatto, noi siamo stati chiusi al pubblico ma il parco non si è mai fermato, quindi dalla quotidiana gestione degli animali all'arrivo di nuovi animali. Infatti i visitatori che già da ieri hanno incominciato a ripasseggiare per il parco possono vedere i tamarini imperatorie, che sono delle piccole scimmie sudamericane tipiche per questi baffi bianchi che hanno sul volto. E un'altra novità sono le morelie, dei pitoni verdi arboricoli che abbiamo da poco qui al parco zoo ad aumentare la famiglia del parco. Meno esotica ma è nata anche una pecorella. Sì esatto, anche se meno esotica comunque sia è un animale che riscuote grandissimo successo. La sua curiosità è che è tutta nera, mamma e papà sono bianchi e lei calimera, così abbiamo deciso di chiamarla, invece è tutta nera. Gioia come vi siete organizzati per questa riapertura? Durante la settimana non c'è la necessità di prenotare il biglietto, mentre la domenica e i festivi abbiamo l'obbligo di acquisto del biglietto online per evitare ovviamente code e assembramenti.